Siamo io Andrea sul fiume, sono le sei e mezza di mattina e ci siamo piazzati benissimo. Le premesse ci sono tutte, ha piovuto un po' prima di iniziare ma si sta aprendo, la giornata dovrebbe essere molto bella. Ci sentiamo dopo. Questo è arrabbiato. Sì, è bello. Sì, è per la bosca, è per la bosca. Adesso ho cambiato il modulo, o se era preso dentro con la pina d'ortale. Sì, è per la bosca. 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 Uno da 3 e 6. Sono ben bellissimi. E' un po', la bosca. E' un po' da 1 e 2. Molto pare. un bel barbocco, due piccoli, un bel bel barbocco, un bel due piccoli, però quando lo prendo dai, lo proviamo... Anzi guarda lo blocco subito perchè ve lo sbaccio al ballo. Sì che è lì vicino allo scorso spero non abbia... Sì sono fuori? Sì... Eh tu è stato pesante è proprio... Vabbè... Sì che bella piccina... Velocì Vabbè che bella... E poi sono di più grossi... Sì che bella piccina... Beh che bella... Sì che bella... E' tutti questo. a no 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 ma guarda tranquillo vai vai la montatura dai non perdere guarda patto patto mamma mia guarda patto mamma mia sembrava un cazzino un altro chilo e mezzo di roba proviamo guardiamo cos'è per curiosità 8-6 a sinistra bello bello oh la la proprio arrabbiato è se c'è qualcosa sì sì anche lì è se ne sono un paio di quelle cose di disposto è andato a riprendere ancora incastrarsi con la pinna opla 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 a posto opla o 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 mattina di pesca questo è il cestino sono state due ore di guerra assolutamente adesso li liberiamo e vediamo di capire quanti li abbiamo presi vediamo un poco dovete essere il conto proprio 1 2 3 guarda che bello questo guarda che bello questo 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 16 17 17 17 18 20 19 20 21 22 23 senza quelli che non abbiamo passato perché erano ormai questi di quella misura lì non li mettevamo più dentro e una grande macchina di testa proprio divertiti alla prossima